L'attività fisica, l'aria aperta e l'alimentazione sana rappresentano un binomio vincente contro le malattie cardiovascolari. Una ricetta verde che potrebbe trovare attuazione in provincia di Frosinone grazie al progetto Al cuor non si comanda, promossa dal Gale e dall'Associazione Città del Sole. Un progetto che punta alla realizzazione di percorsi naturalistici salutari, in grado di attrarre turisti con problemi cardiovascolari, che durante il giorno saranno seguiti da un'equip di medici. Di questo si è parlato nel corso di un convegno ospitato nell'abbazia di Casamari, nell'ambito della manifestazione Ciociaria Cuore. Nel territorio europeo e in Italia in particolare c'è una grande domanda di percorsi naturalistici dedicati a persone che sono in un percorso postoperatorio cardiologico, ma non c'è in Italia. Per il GAL la Ciociaria può ospitare questo tipo di turismo sanitario. Un territorio che nell'arco degli anni, soprattutto attraverso l'attività del GAL e dei comuni, si è strutturato con tutta una serie di attrezzature. Sarebbe possibile in questo territorio costruire iniziative turistiche, tese, pacchetti turistici, itinerari, organizzazioni tese ad accogliere questa domanda. L'idea del turismo sanitario ha vinto il concorso Talenti Italiani grazie al progetto presentato da Alberto Di Legge e Di Fonteghiari che ne ha realizzato uno apposta Fibreno. Una causa quella dei percorsi naturalistici che è stata sposata dall'associazione Città del Sole che in merito ha anche firmato un protocollo d'intesa con l'ASL di Frosinone. Un progetto reso possibile anche grazie quindi all'apporto dell'ASL Ciociara. Ma in che modo si può spingere un soggetto verso questo tipo di iniziative? Disegnare dei percorsi naturalistici protetti, per protetti si intende con sistemi di controllo di tutti quanti gli indici cardiaci necessari per valutare un soggetto in attività fisica e quindi semmai di agire durante questo percorso se dovesse essere un evento attraverso una spronta azione medica e clinica.